Il disimpegno da parte della Taranto Container Terminal relativo alla sua presenza al porto di Taranto annunciato nel 2011 e poi il licenziamento dei lavoratori il 16 giugno del 2015. Da quel momento in poi è stato un lavoro corale per tentare di non mandare a casa 516 lavoratori e le loro relative professionalità. Si commenta così stamane nella sala conferenze dell'autorità portuale di Taranto l'accordo siglato la settimana scorsa relativo al salvataggio degli ex lavoratori TCT, cassa integrazione derogata fino al 30 dicembre prossimo e poi il passaggio all'agenzia governativa di somministrazione voluta dal governo per le realtà portuali in crisi. È un percorso complesso ma un percorso che sicuramente ci fa ben sperare rispetto alle prospettive perché parliamo della costituzione di un'agenzia governativa di somministrazione di lavoro temporaneo, un'agenzia che accompagnerà i lavoratori nel complesso e difficile percorso che li rivedrà di nuovo al lavoro nelle attività diciamo che partiranno in questo porto. Questi tre mesi di proroga di cassa integrazione a rilanciare il porto, l'economia di questa città perché altrimenti non avrebbe senso tutto il lavoro che è stato fatto. A proposito di speranza ci sono notizie circa i player interessati al porto di Taranto? A questo ce lo dirà in mattinata il presidente dell'autorità portuale. Diciamo le notizie degli ultimi giorni in qualche modo ci rassicurano anche su questo ambito perché la prima parte, quella della giudicazione attraverso la fase per così dire concorsuale riprende e riprende il 13 per perfezionare il primo tratto. Quello che per quello che ci riguarda dovrebbe portare un centinaio di assunzioni dirette. Una trattativa difficile per i sindacati non è solo un atto di assistenzialismo dicono ma una vera e propria azione di politica industriale che tende a rilanciare lo scalo portuale tarantino e la sua esperienza. Insomma una clausola sociale efficace che in tre anni dovrà occuparsi della formazione e ricollocazione di quei lavoratori. Un progetto che per il presidente dell'autorità portuale di Taranto non è lontano da compiersi. Io ora parlo per ipotesi però noi abbiamo in piedi una gara sulla quale chiaramente non posso sbilanciarmi in senso favorevole o negativo però se la gara dovesse concludersi con un rilascio di una concessione l'impresa, l'operatore che avrà la concessione dovrà chiamare n lavoratori e quindi alcuni di quei lavoratori che dovrebbero entrare in agenzia potrebbero proprio non collocare cioè non collocarsi in agenzia ma essere ricollocati invece direttamente presso questa nuova impresa.